ecco vendaggiani ti ho vendaggiato andiamo ma questo era un aereo di carbo ehm si non è di linea perchè non ci sono i 6 vidi uh c'è dell'acqua si comunque si può salire anche qua e continuare a vedere dentro la aereo 7 62 hkm clip alle prendo eh certo perchè ce l'hai la km no però se capitare tegane qua devo fare attenzione che non anche biotici ma m cioè moriamo qua di fame no non si muore perchè non ha perchè abbiamo un sacco di i medicini quindi la salute anche quello che scende possiamo continuare a curare la fame ok qua bisogna scendere perchè di là non c'ho qua ma queste sono munizioni per me no 2 per no non sono per me ben chi ha prendi vuoi prendere i tuoi penchili prendi i tuoi posso posso un'azienda posso conservarli santo ma cosa 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 dire no si ma non c'è un caso vieni aspetta no non ci salire perchè no devi oh mio dio ci vuole un'ora poi ah no allora dove andiamo eh eh giù hai attenzione di buttarti eh sì dall'altra parte dall'altra parte non ci si fa niente non sono per me forza aia no non ti fai quasi niente vieni pure ah io non so a me fa sempre un po' male comunque adesso andando avanti qua è l'aeroporto eh oh mio dio si muore qua si muore eh non so guardo col binoculo aspetta aspetta mi binocolo io binocolati aspetta ehm minchia siamo in 14 ah eh mi pare che non ci sia nessuno vogliamo fare una toccata e fuga velocemente passiamo dagli anga dai sprinta sprinta non sai qui parte sinistra vado a sinistra arrivo arrivo anche te sta laggando un pochino eh diventa più pesante quando registri eh ah ah parecchio probabilmente ancora devono devono ottimizzarlo non so aspettami non ti vedo eh ma sono vicino ah tanto vicino da sentirti la puzza eh quella è la tua infatti si sente sempre comunque ho fame eh anch'io ma anche nella realtà eh sarà così mezzogiorno anche si è mezzogiorno ah io ho fame anche qui e mi muore il personaggio è peggio io non muoio per un'ora apri la dispensa e te ti rifoncilli oh come dirò più sprint ah va smetto anche io dai presto però non voglio esplorarlo tutto l'aeroporto perché è abbastanza pericoloso vorrei solo prendere una cosa da mangiare e andare via eh anch'io però eh perché poi abbiamo tante munizioni cioè vabbè non sono troppo però ah beh c'è un fucile vero perché come allora il mille m4 c'è solo più 13 colpi eh io ho sei più un caricatore del fucile mio poi ho fatto l'altro fucile quindi no come ero mi siamo messi bene dai è l'unica è l'unica il cibo io sto andando sempre più in rosso sudese non era mai capitato che se lo viva il cibo no no è vero o comunque ne trovi sempre tanto invece qui più razionale razionato razionato che ti stanza c'è sacco da camminare eh che agli elicotri potrebbero non esserci nulla magari e poi ci esponiamo se ci andiamo e la torre di controllo i migliori sono gli angar credo eh c'è un sacco di roba l'altra volta abbiamo trovato tanto con Danny quindi proviamoci proviamo io non ho sprinto più perché così almeno se arrivo posso se se arrivo sempre se bello ma il cielo cambia da giorno di giorno in giorno perché mi sembra più nuvoloso in questo momento di dirsi è più nuvoloso si vede ma così ce l'ho ea pecorelle guarda eh pecorelle se anche tu sei una delle pecorelle è la più brutta tu sei il pastore eh se non il pastore no bastardo sporco forza sei zitto che siamo arrivati a sti sparano se non ti sparano ti sparo io eh ma tanto ci sparano mi giro e ti sparo io sono sicuro che qua dobbiamo infilarci nella rete eh ok ho fatto fuori anche l'ultimo sprint che avevo dai orari ciasmi che sto morendo di fame eh pure io e che cazzo questa è colpa tua che è andato a prendere le armi e non hai preso si e non hai preso e tu che sei voluto andare via dalla città merda non c'era altro nella città merda eh vabbè c'era magari qualcosa da mangiare eh andiamo in gianca è colpa tua che hai voluto sparare a quel tizio quindi adesso ci stanno punendo eh mi sembrava che te non fossi così in disaccordo eh inizialmente lo ero eh poi dopo hai cambiato poi dopo paese che vai oh ma questo è il cibo si ma non lo puoi prendere ah ma che che merda eh c'è soda ah il primo hangar è scarso vediamo il secondo porca puttana per un anno ho paura che mi spara oh no spero spararli ma che non spararli ma non spararli c'è la zucca qua eh ma se gli mangiare con la zucca in testa non credo che si possa sarebbe troppo facile secondo me c'è già passato qualcuno perchè mancano i loot qua eh eh ci sono una torcia eh 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 come facciamo noi non lo so qua si muore cazzo oh 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 zombie zombie ma dove cazzo io gli sparo eh ma no ce l'ha con me ah mio dio vieni vieni i soldi vieni andiamo oh bastardo mi freggo e tu lui lasci ma fa culo non c'è mio o tuo nell'apocalisse è stato in testa è tutto mio vieni vieni allora qui dentro è la nostra ultima sport oi ma hai fatto un rumore con la bocca no no ho sentito un colpo no ero io che cercavo di tirarti un martello in testa brutto scemo cazzo hai fatto rumore con la bocca ho sentito ti vuoi ciumi ciumi comunque sono miseri eh questi hangar eh quelle idesi contenevano molta più mondezisina se qui c'è un cappello ho attratto zombie per caso no 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 per ora no eh ma mi sa che la nostra fine è è la morte di fame è preannunciata eh non abbiamo trovato un cazzo nella mia fame in rosso possiamo guardare eh andiamo alla torre no andiamo agli elicotteri anche la torre mi sa che non c'è un piffero porca puta ah no qui qui si può entrare vieni vieni questa casa oh oh questo sembra anche abbastanza eh qui c'è dell'acqua sembra succulenta succulenta sembra non lo so ho visto qualcosa a muoversi ho visto qualcosa a muoversi c'è un cazzo non c'è niente oh mio dio eh qua c'è acqua un sacco di acqua ma questo cibo qui messo in terra eh perché cosa rappresenta non so beh l'acqua la prendo abbiamo un casino di acqua e invece il cibo eh come ne usciamo c'è una mazza c'è una mazza bella la prendo? non lo so se ti trovi meglio col martello mi sa che sono più o meno guai ma lì ho trattato di cibo ah bastardo ma anche io ho fatto non lo mangio ah mi ha rigenerato di un po' meno ma sei una merda io sono più in rosso no io sono più in rosso di te non è vero sei un bastardo no è vero ti spero dove cazzo sei? ti uccido adesso non lo dico non puoi togliermelo dalla stoma ma anche l'ho detto sto andando alla torre ma se non trovo niente io qua ci lascio le penne no no ti ho detto abbiamo gli antibiotici e anche le vende e poi mi sa che lo sto aggrando eh che siamo birrotto sei vieni qui i zombie di merda eccolo muori oddio eh eh muori soccombi sulla mia mira di falco acquatico non c'è niente è che se muori così ti prendo anche il fucino eh no sputtano tutte le munizioni prima vabbè ma io ne trovo altre ma strano però che ci sia poco cibo così eh 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 e qua sopra poi c'era una maschera nera ma chi se ne frega eh le maschera ci sono un sacco di maschere e cappelli mi devo mangiare il cappello il cappello di pelle magari eh qua c'è un altro cappello oh mio dio non è possibile vabbè io ho deciso mi mangio questo cappello vaffanculo mi mangio questo cappello non esiste non c'è mai niente da mangiare vediamo sul balcone mica ti immagino se adesso trovo c'è una torcia qua se morisco cecchinamento eh no infatti io scendo ma porca puttana però eh eh io muoio ormai son rassegnato no non muori ma non mi va di rimanere senza mangiare è stupido se sono in rosso dovrei essere messo male no quindi immagino di esserlo sono uscito io eh vienimi a soccorrere in cosa? eh non so negli zombie che attirerò prenditi la maschera prova a mangiarla magari non fa ti trarà nel cu qua che ho trovato un vaccino ho trovato dove? l'ho preso pure meglio di niente mi mangio quello secondo me aiuto c'è la siringa ma dove? ah se dove c'è la cosa dei punti vabbè io direi che possiamo anche staccare qui no? si diciamo che abbiamo fallito nell'impresa di trovare il cibo però sono un sacco di zombie qua vicino si beh ammazzo questo io mi metto mi nascondo un po' in mezzo all'erba qua si ok 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 va bene alla prossima allora alla prossima ciao